In questo video ti spiego come ricaricare il saldo Paypal. Si tratta di un processo semplice e veloce, quindi cominciamo. Come prima cosa devi accedere con il tuo account Paypal. Ora che sieda nella home page, nella voce Saldo Paypal, clicca su Trasferisci denaro. Questa operazione vi permetterà di avviare la richiesta di trasferimento di denaro. A questo punto, clicca su Ricarica il tuo saldo. Per effettuare una ricarica il saldo Paypal dovrai fare un bonifico. Non preoccuparti, il bonifico lo fai a Paypal utilizzando un codice IBAN univoco che accrediterà i soldi sul tuo saldo. È come fare un bonifico a se stessi. Per fare questo devi usare il conto corrente collegato a Paypal, quello intestato a te. Nella schermata di ricarica conto potete trovare gli estremi a cui fare il bonifico. E si tratta di un'operazione semplice come abbiamo già visto. A questo punto accedi al conto corrente online che hai a disposizione o vai allo sportello della tua banca. Ora usa i dati del riquadro azzurro, ovvero quello della schermata precedente di Paypal, per compilare il modulo del bonifico. Sul conto corrente online usa la funzione bonifico e fai copia e incolla del codice IBAN e dei dati bancari forniti da Paypal, quelli nel riquadro azzurro. Prosegui per fare il bonifico. Dopo uno o due giorni dovresti ricevere i soldi sul tuo saldo Paypal. Se non lo ricevi nell'arco di qualche giorno, ti consigliamo di contattare l'assistenza di Paypal o della tua banca. Inoltre, consigliamo di vedere se i soldi sono stati ridepositati nella tua banca. Ciò succede se le informazioni del bonifico erano errate. Grazie per avermi seguito e spero di esserti stato utile. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale per ricevere aggiornamenti sui nuovi videotutorial.